Presidente Fedriga, dalle ultime intercettazioni ambientali dei carabinieri che cosa si evince? Si evince che l'immigrazione, in particolar modo l'immigrazione clandestina, come la Lega sottolinea da tempo, non soltanto ha un impatto drammatico nella nostra società, non soltanto sperpera risorse pubbliche 12 miliardi di euro spesi all'anno da questo governo per favorire l'immigrazione clandestina, ma è anche un enorme business per la criminalità organizzata. Addirittura dall'intercettazione emerge che rende più della droga. Dunque, altro che buonismo di sinistra, questo è un business per chi vive sulle spalle dei nostri cittadini, porta la criminalità nei nostri territori e quello che dicevamo, ovvero che l'immigrazione clandestina è anche mano d'opera per la criminalità organizzata, emerge in modo palese. Vorrei sapere cosa diranno oggi tutti quei buonisti di sinistra, e devo dire purtroppo non solo di sinistra, che continuano a voler utilizzare le risorse che dovrebbero servire per il dramma che stanno vivendo i nostri cittadini, le nostre famiglie, per dare un po' di fiato a quelle imprese che stanno chiudendo e lasciano a casa milioni di lavoratori. Vorrei sapere cosa diranno quando vedono che le loro politiche non fanno altro che favorire la criminalità organizzata.